ok siamo all'interno di un pullman a letto dove abbiamo dormito questa notte e adesso sono esattamente sono le 6 e 20 di questa mattina è stata un'esperienza niente male devo dire anche perché comunque siamo stati abbastanza comodi siamo partiti ieri sera dovevo partire alle 7 siamo partiti verso le otto e mezzo sicuramente non ho appena alzato però volevo fare vedere questo posto che è molto cagliardo praticamente ti scuoccio è così ci sono tre file di letti che faccio e questo è il letto mio e poi ci sono i letti così i letti lì così ecco qui e tutti i letti così e così ci siamo fatti questo viaggio da Shindao fino a Shanghai dobbiamo ancora arrivare e però insomma sicuramente è stato conveniente rispetto a prendere l'aereo anche perché abbiamo risparmiato anche la notte in albergo ora quando arriveremo a Shanghai dovremo prendere un taxi andare verso il nostro albergo e cominciare la giornata ok finalmente si è partiti speriamo che si fada tutto bene durante questa vacanza un saluto alla gavera 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 Grazie.